Grazie Presidente, sarò breve. Di fatto noi inseriamo con questo emendamento nel dispositivo della delibera un impegno ben preciso, cioè quello che l'amministrazione, una volta approvata l'adozione di questa variante, dovrà determinarsi con due successivi atti separati. Uno per espletare le procedure di evidenza pubblica concorsuale, sia sulle aree che saranno cedute all'amministrazione da cassa depositi e prestiti. Una procedura sarà quella riferita ai servizi pubblici di livello locale e l'altra si riferirà al comparto B destinato al servizio pubblico urbano, cosiddetto città della scienza. Inoltre, sempre con un successivo provvedimento, l'amministrazione capitolina dovrà impegnare la somma di 100.000 euro relativa alla progettazione preliminare dell'opera pubblica di livello locale. E' già individuato il capitolo di spesa e il centro di costo su cui questa somma dovrà essere impegnata per dare la possibilità all'amministrazione di espletare la procedura, come dicevamo ieri, nei tempi necessari per arrivare all'approvazione del programma, ma già con una proposta progettuale selezionata dall'amministrazione. Credo, poi lo vedremo magari anche nelle prossime settimane quando approveremo il bilancio di previsione, che troveremo appunto stanziati questi 100.000 euro proprio per consentire di partire immediatamente nei tempi più rapidi possibili con la procedura di concorso. Grazie.